Si chiama Fano Progetta Fano Lab ed è il nome dell'iniziativa promossa da bene comune dall'Associazione Culturale L'Alveare che ha l'obiettivo di coinvolgere i cittadini per disegnare un nuovo progetto di città tenendo conto in via prioritaria dei problemi sociali e ambientali. Dopo i convegni dedicati al welfare oggi inizia una seconda fase. È stato infatti presentato il programma dedicato a Fano Città dei Bambini. Nelle prossime settimane verranno avviati dei laboratori fino ad arrivare ad un convegno conclusivo il prossimo 7 maggio con la partecipazione del professor Francesco Tonucci. Un progetto che sia basato sul bambino ma non per il bambino ma praticamente per gli adulti, per tutti. Le nostre città, diceva Francesco Tonucci in uno dei suoi lavori, i cittadini soffrono i mali della città ma sembrano che non chiedono in maniera esplicita che la città cambi e pensano che questo non sia possibile. Sempre in quel libro, nel suo libro, prosegue con un'affermazione che secondo me è il cuore di tutto quello che può essere il principio generale della Fano Città dei Bambini. Si tratta di accettare la diversità che il bambino porta con sé a garanzia di tutte le diversità. Chi è capace di tener conto dei bisogni e dei desideri dei bambini non avrà difficoltà a tener conto della necessità dell'anziano, dell'anticappato e dell'extracomunitario. Siamo nel 1994-93, quando Tonucci scrive queste righe, ma credo che oggi sia una proposta viva in una città che tende un po' a morire, noi riteniamo per tanti aspetti. Non è fare una città dei bambini, fare un parco in più o un'attenzione maggiore a quelli che possono essere i bisogni dei bambini, ma è proprio quello di rielaborare, di mettersi alla scuola dei bambini per disegnare una città per tutti.